Che significa B e come mai avete scelto questo nome? B è un nome curioso, curioso perché B in inglese significa ape. Ci siamo legati un po' alla figura di questo insetto che è veloce, continua a lavorare, se smette di lavorare l'ape muore. Un po' come noi, è un anno che stiamo cercando di rendere il nostro editor un editor semplice, immediato, veloce, che si impari direttamente nel primo utilizzo e che permette di fare cose complesse con una semplicità estrema. Grazie a tutti.